Questa mattina si è verificato un fatto abbastanza particolare alla mensa della scuola Petrarca, ad Incisa. Una mozzarella blu, che però era blu non perché la mozzarella non era buona, perché era successo qualche altra cosa. Sì, direi un equivoco a tutti gli effetti, perché si è scatenato il panico presso la primaria di Incisa a seguito della presenza di questa mozzarella blu, ma di fatto era diventata blu proprio perché un bambino con le mani sporche di pennarello l'aveva toccata facendola diventare blu. Le mozzarella erano buone, ma a causa di questa preoccupazione e del panico che si è scatenato sono state ritirate dalle menze tutte le mozzarella, che non erano scadute, erano in ottime condizioni, di ottima qualità, tra l'altro di l'arte italiano, quindi assolutamente di provenienza certificata e purtroppo dovute ritirare per una non curanza da parte di un insegnante che invece di accertarsi della situazione effettiva della mozzarella e delle mani del bambino purtroppo ha generato questo caos. Noi abbiamo dovuto rilevare questa preoccupazione anche nei genitori, quindi ci preme anche rassicurarli perché le nostre menze sono tenute sotto controllo in maniera quotidiana da parte dei nostri addetti, non solo quelli della ditta incaricata, ma in particolare c'è una figura interna al comune, un dipendente comunale che ogni giorno si reca presso le menze per fare tutte le analisi del caso, per analizzare quindi le materie prime e la preparazione e fare in modo che tutto sia regolare e che quando i bambini consumano il pasto ogni cosa sia come deve essere. Quindi diciamo c'è un impegno costante, un monitoraggio costante da parte nostra, questo insomma mi preme dirlo per rassicurare i genitori perché giustamente sono preoccupati della salute e dei loro figli, ma in questo caso davvero bisogna dire che sono in buone mani.